Un plauso alle maestre della scuola dell'infanzia, della Montessori, Elena Tripaldi e Mariangela Iemma per lo spettacolo che con i loro bambini della seconda B hanno voluto portare in scena per fare alle famiglie tutte presenti il regalo più bello. Un regalo che ha visto i bambini e le bambine protagonisti con canti e piccole recite, ma che sicuramente sono un esempio di quanto nelle scuole si fa per loro. Elfi e Babbo Natale hanno emozionato tutti, proprio perché vederli recitare e cantare, vederli ballare con il costante controllo delle maestre, è stato veramente una grande emozione. Un coinvolgimento di tutti, perché anche i genitori e i nonni hanno goduto di questo momento di festa. Sì, perché è stata una fera festa che ha dato modo di riflettere anche sul significato del Santo Natale per la nostra tradizione. Educare i bambini attraverso le recite a quelli che sono i principi fondamentali della nostra italianità e della nostra tradizione cristiana è sicuramente un passo importante per la loro crescita. C'è da dire che le maestre meritano un plauso perché tenere sotto controllo bambini di 3, 4 anni e 5 anni non è facile, eppure sono riuscite a iniziare e finire lo spettacolo, il regalo più bello, con grande maestria e pazienza, il regalo più bello fatti alle famiglie, il regalo di Natale più dolce ed emozionante per le famiglie e per i piccoli attori sulla scena, perché guardandosi attorno e vedendo i propri genitori, i nonni, erano tutti così felici ed emozionati da regalare anche tante risate perché si muovevano in libertà e raggiungevano i propri familiari per poi tornare sulla scena. Un momento festivo allegro, un momento di gioia e di felicità per tutti. Il Natale è questo, riscoprire la gioia della festa, riscoprire che il tempo scorre e momenti come questi lo fermano perché tutto diventa secondario e al primo posto c'è il piacere e l'orgoglio di vedere sulla scena i propri bambini, gioielli delle nostre famiglie, applausi e sorrisi per un giorno particolare, quello in cui si è avuto il regalo più bello.